Buon pomeriggio dalla redazione di live, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Domani sarà un venerdì nero, non ancora per gli acquisti, nonostante le tante pubblicità che sentiamo in giro, ma soprattutto per gli utenti del trasporto pubblico, perché ci sarà una giornata intera di sciopero, una parte era già stata annunciata, quella del trasporto su gomma, quella degli autobus. Nelle ultime ore però si è unita anche Ferrovie Nord, quindi qualche disagio, sebbene ristretto, potrebbe esserci anche per i treni. Sarà un nuovo venerdì di passione per gli utenti del trasporto pubblico. L'intera giornata, come già annunciato, interessata dall'agitazione nazionale di 24 ore per gli autobus, ora potrà riguardare anche i treni che inizialmente erano esclusi. Infatti incroceranno le braccia gli operatori di Ferrovie Nord, la società che gestisce alcuni tratti delle infrastrutture ferroviarie della Lombardia. A livello regionale non saranno i lavoratori di Trenord a scioperare, questo significa che i disservizi potrebbero verificarsi soltanto in quelle linee in carico a Ferrovie Nord, per il nostro territorio significa la Brescese o Edolo. Viaggeranno i convogli con partenza dalla stazione di origine fra le 6 e le 9 e fra le 18 e le 21, indipendentemente dall'orario di arrivo alla destinazione finale. Venendo invece al trasporto urbano, Brescia Mobilità ha fatto sapere che potrebbero esserci delle variazioni o anche riduzioni del servizio sia per gli autobus che per la metropolitana. Problemi potranno inoltre verificarsi nei bus a Desenzano del Garda. Per quanto riguarda gli autobus non sono previste fasce di garanzia, pertanto lo sciopero interesserà l'intera giornata. Concentrandoci invece sulla metropolitana il servizio è garantito dalle 6 alle 9 e dalle 11 e 30 alle 14 e 30. Oltre a queste fasce orarie non sono garantite le partenze dai capilinea. Stesso discorso per le corse dei pullman extraurbani, anche Arriva Italia ha confermato possibili problemi per l'intera giornata su tutta la rete. Saranno garantiti solo i servizi minimi essenziali. Vi invito a consultare l'articolo dedicato sul nostro quotidiano online per tutti i dettagli e soprattutto anche per la lista di quelle che saranno tutte le corse garantite sia in ambito urbano che extraurbano degli autobus per quanto riguarda la provincia e la città di Brescia. Proseguiamo ora con il giornale, lo facciamo con una notizia di cronaca e con un giovanissimo, un minorenne che è stato trovato in stazione in possesso di droga ed è quindi stato denunciato. Un sedicenne è stato denunciato dagli agenti del commissariato Carmine dopo essere stato trovato in possesso di droga nella zona della stazione ferroviaria di Brescia. Il giovane è stato deferito all'autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è scattato quando gli agenti hanno notato il ragazzo cambiare bruscamente direzione come se stesse cercando di evitare un controllo. Immediatamente bloccato e identificato, il sedicenne è stato trovato con alcune bustine contenenti circa 30 grammi di hashish e 55 euro in contanti, probabilmente provento dell'attività di spaccio. Successivamente il narcotest effettuato dalla polizia scientifica ha confermato che la sostanza era proprio hashish, sia la droga e il denaro a quel punto sono stati sequestrati. La questura riferisce che l'attività di controllo in questa zona sensibile della città è quotidiana, specialmente il riferimento a fenomeni di bingrospaccio e di criminalità diffusa che spesso vedono come protagonisti i minorenni. Rimaniamo in città, la loggia si è aggiudicata un finanziamento non indifferente dal PNRR per finanziare un progetto che migliori la cybersicurezza dei sistemi comunali, forse anche sulla scorta della brutta esperienza del 2021. Sicuramente qualcuno si ricorderà dell'attacco hacker subito dai sistemi del comune di Brescia nel 2021. Di certo se lo ricordano bene tutti coloro i quali in quei giorni hanno dovuto mettere al sicuro i dati dei bresciani e ripristinare tutti i servizi. Una vicenda che a distanza di tre anni pare quasi un film di spionaggio ma che al giorno d'oggi purtroppo è la normalità. Facendo tesoro della brutta esperienza la loggia è riuscita ad ottenere un finanziamento dal PNRR pari a un milione e mezzo di euro proprio per la realizzazione di un progetto di potenziamento di servizi e infrastrutture di sicurezza informatica degli apparati comunali. Il comune di Brescia ha infatti partecipato al bando inviando una proposta progettuale per innalzare i propri livelli di cyber security e la proposta è stata aggiudicata positivamente aggiudicandosi quindi i fondi necessari. In particolare il progetto della durata di 18 mesi prevede una serie di attività coordinate finalizzate al raggiungimento di macro obiettivi, governance e programmazione strategica delle attività di cyber security, gestione del rischio cyber e della continua operatività, gestione e risposta agli incidenti di sicurezza, gestione dell'identità digitali e degli accessi logici, sicurezza delle applicazioni, dei dati e delle reti. E a proposito di piccoli o grandi problemi in cui si può incappare online, attenzione a una nuova truffa molto diffusa anche sul nostro territorio, un documento, una convocazione giudiziaria che può far davvero paura può sembrare reale ma in effetti non lo è. Logi istituzionali, timbro e firma autografa del capo della polizia, tutto per far sembrare il documento, almeno un primo sguardo poco attento, ufficiale. Ma di vero non c'è proprio nulla poiché si tratta dell'ennesimo tentativo di truffa in voga online in questo periodo. Quel documento, che può arrivare via mail, è una convocazione e prospetta alla vittima in caso di mancato riscontro nel fornire spiegazioni in merito a un'indagine penale ovviamente inesistente, l'emissione di un mandato di arresto per reati di pedopornografia in rete. Nelle email si paventa anche l'iscrizione della vittima in un fantomatico registro dei delinquenti sessuali che anche in questo caso non esiste. Lo scopo è quello di causare nel destinatario uno stato di agitazione e quindi di indurlo a ricontattare il truffatore inviando le proprie giustificazioni. Dopo aver dato seguito alla richiesta, il truffatore però chiederà alla vittima il pagamento di una somma di denaro per evitare l'arresto. La polizia postale raccomanda di diffidare da simili messaggi poiché nessuna forza di polizia contatta mai direttamente i cittadini attraverso email o sms per chiedere loro dati personali o pagamenti in denaro con la minaccia di procedimenti penali a loro carico. Voltiamo pagina, ovviamente sono state tantissime le reazioni, i commenti all'esito delle elezioni statunitensi con la vittoria del candidato repubblicano Donald Trump. Fra queste vi è anche quella della Coldiretti che ovviamente punta l'attenzione sul mondo agricolo e in particolare sulla differenza dei fondi al mondo agricolo che c'è fra gli Stati Uniti d'America e l'Europa. Da qui lo sprone, il pungolo all'Unione di aumentare questi finanziamenti. Con l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca, l'Unione Europea deve rafforzare il suo bilancio agricolo gravemente carente rispetto al Farm Bill, il programma di aiuti per gli agricoltori americani che il neopresidente prevede di potenziare con una serie di misure fiscali e incentivi per rafforzare la produzione alimentare statunitense e incrementare la presenza sui mercati esteri. È quanto afferma la Coldiretti nel commentare le elezioni USA che hanno visto la vittoria del candidato repubblicano. La politica agricola comune o PAC in Europa vede 386 miliardi di euro in totale fino a 2027, di cui 35 miliardi di euro proprio per l'Italia. Negli USA il Farm Bill vale invece 1.400 miliardi di dollari in dieci anni, con un gap profondo che per l'associazione penalizza gli agricoltori europei e che l'Unione Europea dovrebbe impegnarsi a colmare per garantire la sovranità alimentare. Ci deve essere un tema di attenzione, di innovazione e di implementazione e deve essere fatto con risorse più utili, esattamente come avviene nei due continenti che per noi oggi sono quelli sicuramente più sfidanti, che sono quello americano da una parte e statunitense dall'altra, conclude la Coldiretti. Ci auguriamo che le relazioni fra gli Stati Uniti e l'Europa possono avere un recupero in termini di rapporti proficui nell'interesse delle nostre economie e auspichiamo che si possa arrivare anche a un cambio nello scenario che storicamente veniva attuato, che ha visto il settore agroalimentare italiano penalizzato da dispute di carattere economico fra USA e UE su altri settori produttivi come quello aerospaziale. Ancora economia a cura dei colleghi dell'agenzia Italpress, partiamo dalle auto, dal settore dell'automotive, in questo caso quello che è il punto finale di questo comparto, ovvero l'acquisto e l'immatricolazione delle auto, così come atteso anche nel mese di ottobre si è registrato un calo, se non un crollo. Nuovo crollo a ottobre per le immatricolazioni di auto in Italia, a quota 126.488, sono risultate del 9% più basse rispetto alle oltre 139.000 dello scorso anno, lo riferisce il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Prosegue e si rafforza invece la dinamica positiva dei trasferimenti di proprietà. A settembre sono stati 545, nei primi dieci mesi dell'anno la crescita complessiva si riduce a un trascurabile 0,96%. URAE ha rivisto al ribasso di 30.000 unità le precedenti previsioni di luglio per il 2024, a causa di un terzo trimestre al di sotto delle aspettative, senza alcuna prospettiva che il quarto sia in grado di recuperarne il gap. Il volume totale di immatricolazioni prevede un modesto incremento dell'1,5% sul 2023, ancora in forte deficit rispetto al pre-Covid, dovuto anche ad un persistente indebolimento del potere d'acquisto delle famiglie. Le prospettive indicano un mercato sostanzialmente piatto anche per il 2025, con una crescita dello 0,6% rispetto a quanto previsto per l'anno in corso. Dopo un'estate positiva, in crescita si registra purtroppo un calo anche in quella che è l'occupazione. A settembre, dopo tre mesi di crescita, il numero di occupati diminuisce, attestandosi a 23.983.000. Il calo coinvolge i dipendenti permanenti e quelli a termine. Gli autonomi rimangono stabili, lo rileva l'Istat. L'occupazione diminuisce tra uomini e donne e tra i dipendenti. È sostanzialmente stabile per gli autonomi e per chi ha almeno 50 anni. Il tasso di occupazione cala al 62,1%. Il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce tra gli uomini e tra chi ha 35 anni o più, mentre aumenta tra le donne e gli under 35. Il tasso di disoccupazione è stabile al 6,1%. Quello giovanile sale al 18,3%. Il numero di inattivi cresce per uomini, donne e tutte le classi d'età, diminuendo solo tra i 25 e 34 anni. Il tasso di inattività sale al 33,7%. Il confronto tra il terzo e il secondo trimestre 2024 mostra un incremento nel numero di occupati dello 0,4%. La crescita dell'occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro e all'aumento degli inattivi. Torniamo a Brescia e ci occupiamo nuovamente del problema del gioco d'azzardo. Se ieri abbiamo un po' scoperto cosa sta dietro al gioco d'azzardo, cosa sta dietro a quella che si chiama normalmente fortuna, ma in realtà è un calcolo delle probabilità matematiche, quest'oggi scopriamo, grazie a Massimo Ziletti della Camera di Commercio di Brescia, anche qualche dato francamente preoccupante per quanto riguarda i giovani. Un gioco è il modo forse più efficace per raccontare loro come stanno le cose realmente, forse superare anche quelle illusioni di una vincita facile, di una vita facile. E quindi ecco perché abbiamo voluto parlare con loro, partendo anche da un dato molto semplice. Quattro ragazzi su dieci sono dediti al gioco, non magari in forma patologica. All'interno di questi ragazzi, quattro, più della metà operano online. Quindi è anche questo un canale nuovo che dà l'idea di come anche può essere subdolo e un po' pericoloso anche questo percorso. Vogliamo far capire che non è tutto facile e agevole e in un certo senso non è tutto scontato come si vuole far credere. E far conoscere anche i trucchetti che stanno dietro al gioco, perché poi qualche trucchetto c'è. E sono trucchi di matematica, quindi è bene anche invitare loro a riflettere. Quando sono chiamati a studiare le probabilità, le percentuali, appunto, sono cose che magari si studiano sui libri, ma che qui si trovano applicate direttamente alla vita. Diamo ora uno sguardo al meteo anche per la giornata di oggi, anche per giovedì. Non vi sono ulteriori novità, almeno per quanto riguarda il Nord Italia 3B. Bentrovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì, quando possiamo notare a livello europeo questo enorme campo di alta pressione con i massimi sempre tra la penisola balcanica e tutti gli stati cento settentrionali del comparto europeo. Invece un lieve cedimento dell'alta pressione sarà possibile sul Mediterraneo centrale con l'innesco di precipitazioni tra le due isole maggiori e il Tirreno meridionale. Focus, difatti, piogge Europa meridionale. Notiamo queste macchie blu, indice di qualche precipitazione tra la Sardegna, la Sicilia ed il Tirreno meridionale. In sintesi quindi, la mappa dell'Italia, più variabilità sulle due isole maggiori, soprattutto sulla Sicilia, sussiste il rischio di precipitazioni con clima ventoso, venti da est-sud-est. Restanti zone dell'Italia, cielo sereno o al più poco involoso, le nebbie di notte al mattino in pianura padana, anche fitte, tutti i dettagli precisi, scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo. Il Palaleonese, il palazzetto dello sport di Brescia, continuerà a chiamarsi a 2A per almeno altri cinque anni. È stata infatti rinnovata questa sponsorizzazione. A2A darà il proprio nome al Palaleonessa anche per i prossimi cinque anni. La società multiservizi, già legata al palazzetto dello sport di Brescia, si è infatti aggiudicata alla gara indetta lo scorso luglio dal Comune per la ricerca di uno sponsor per la denominazione della struttura. Il precedente contratto verrà dunque rinnovato a partire dalla data di aggiudicazione e fino al 30 giugno del 2029. Fino ad allora il palazzetto continuerà a chiamarsi Palaleonessa A2A. Ora la società potrà installare a proprie spese insegne e altri elementi distintivi recanti il proprio nome in abbinamento alla denominazione Palaleonessa, sia all'interno che all'esterno della struttura. In particolare sarà realizzata un'insegna sull'anello intorno al reticolato esterno del palazzetto con la scritta A2A Life Company. Previsti anche banner sopra le biglietterie in prossimità degli ingressi dell'area gioco e nelle due hall. Con la capienza di oltre 5.000 spettatori, l'ex AB è oggi la casa della pallacanestro Brescia e ospita numerosi altri eventi sportivi e manifestazioni. La partnership con A2A garantirà al Palaleonessa la visibilità e il supporto necessario per sapere la loggia per consolidare il suo ruolo di punto di riferimento per lo sport e l'intrattenimento di Brescia. Manca davvero moltissimo al giugno del 2025 quando tornerà la Mille Miglia, però da oggi sono aperte le iscrizioni. Entra nel vivo il lungo avvicinamento all'edizione 2025 della Mille Miglia. Dopo la presentazione ufficiale in loggia di qualche settimana fa, ora sono state aperte le iscrizioni per la corsa più bella del mondo in programma dal 17 al 21 giugno del prossimo anno. Il termine per formalizzare l'iscrizione è stato fissato alle 16 di giovedì 16 gennaio, mentre la conferma di avvenuta accettazione con la conseguente pubblicazione dell'elenco delle vetture ammesse verrà inviata entro il 4 aprile successivo. La particolarità della Mille Miglia 2025, che vede confermato per il terzo anno consecutivo al format delle cinque giornate di gara, sarà il percorso A8 mutuato dalle edizioni dell'anteguerra. Nella quarta giornata all'altezza di Empoli il tracciato in risalita incrocerà quello percorso durante la discesa e la gara arriverà a compiere per intero la traversata dell'Italia da est a ovest, collegando i due mari dalla sponda adriatica a quella tirrenica. Per iscriversi è indispensabile possedere o comunque aver richiesto il certificato di registro Mille Miglia. Novità di quest'anno è l'introduzione della quota di iscrizione riservata agli equipaggi Under 30. Ci fermiamo qui con questa edizione del telegiornale. Tutte le notizie però le trovate in continuo aggiornamento su AleBrescia.tv, il nostro quotidiano online sul quale se volete potete anche trovare la diretta in streaming di eLive in questo box a destra della home page. Se invece volete riceverle direttamente sul vostro telefono cellulare tutte queste notizie, le potete trovare iscrivendovi ai nostri canali Telegram e WhatsApp oppure seguendo comodamente le nostre pagine social o scaricando anche l'applicazione gratuita di eLive. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. L'appuntamento con il telegiornale ovviamente ritorna alle 19 e per ora non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto. Grazie.